Carlo Rossi e il figlio Gianfranco, al timone figlio Gianfranco, ma è stato il papà che l'ha spinto di facciamo un acquaramo di seconda mano, hanno portato la guida a poppa perché la guida normale è qui. La commissione tecnica, la regione sportiva, non lo lasciavano partire perché dicevano una barca troppo piccola in Atlantico, c'erano dei mostri di 12-13 metri, poi alla fine ho avuto un po' di compassione perché hanno visto con quanto entusiasmo, con quanta passione avevano preparato questa barca per affrontare l'oceano, se lasciamo lì andare tanto arriva la nuova, fino alla foccia del Tamesi e poi tornare indietro, e invece sono andati secondi assoluti e prima di categoria.